Allora, intanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito che mi è arrivato stamattina per essere qui. Allora, Michele ha fatto una presentazione fantastica, diciamo che mi ha lasciato pochissime cose da dire, nel senso che ha raccontato tantissime belle novità, tra l'altro che nemmeno conoscevo io, quindi complimenti vivissimi per le tante cose che fate. Rispetto a Michele però, io parlerò di tutt'altro, nel senso che dal punto di vista aziendale, e inizio a presentarmi, noi abbiamo sempre cercato di rispondere ad una semplice domanda. Si può guadagnare dalla valorizzazione dei beni culturali? Nel senso, si può fare impresa? Perché ho avuto a che fare con tantissime realtà, ma molte di queste realtà hanno a che fare con la valorizzazione dei beni culturali su progetti che vengono finanziati o comunque su delle attività che sono in qualche parte, rientrano nel, diciamo, nel mercato B2B. Cioè io ho qualcosa, devo fare, chiamo un professionista, bravissimo per carità, e lo faccio, e realizzo il mio prodotto. Bene, noi partiamo da un punto di vista completamente diverso. Nel senso, io parto dal punto di vista bellissimo, ma ci si può anche guadagnare, ci si può vivere su questa cosa, ci si può creare un'impresa e avere delle persone che collaborano con te, che lavorano per te, per cercare di fare le stesse cose. E io ho preparato questa presentazione cercando di rispondere a queste domande, mettendo in rilievo le cose che possono essere positive, ma anche quelle negative, perché è bello poter parlare e dire io faccio questo e sono bravissimo, senza mettere in luce anche quelle che sono magari le criticità del nostro lavoro. E cosa fondamentale che a me piace fare è che oltre a metterci la faccia, noi ci mettiamo anche dei numeri, per cui i casi che vi porterò, ok, vi indicherò quanto abbiamo speso per fare questa cosa e quanto ci abbiamo guadagnato con perfetta trasparenza, proprio perché noi lavoriamo alla luce del sole. Intanto vi dico che Entertainment Game Apps, l'acronimo EGA, è nata nel 2014 con l'idea di creare Serious Game, ok, ed è l'unica definizione che vi darò oggi è questa qua, quella avvesa di Serious Game, nel quale il patrimonio culturale sono i protagonisti del vino gioco. Per questo, degli 11 persone che noi abbiamo a staff, 4 sono archeologhe e 2 sono storiche dell'arte. Abbiamo 2 grafici 3D e un programmatore. Per cui, ecco, questo deve far notare il peso, ok, dei contenuti che noi mettiamo in quello che facciamo, ok? Questo è molto importante, io dico sempre, perché cerchiamo di, come posso dirvi, cerchiamo di far capire il peso della nostra volontà di trasmettere comunque dei contenuti che sono attendibili. vi dicevo che l'unica definizione che vi darò è questa di Serious Game. Lui la trovate su Wikipedia, tra l'altro, non è nemmeno presa, non l'ho nemmeno fatto io. Praticamente si definiscono tutte quelle cose che indipendentemente dal supporto, ok, quindi che sia cartaceo, che sia multimediale, che sia un programma, ok, ha come obiettivo quello di far, di dare un, come si può dire, di insegnare qualcosa, ok? E per fare questa cosa, la parte del divertimento può essere anche trascurata, ok? Non deve essere per forza divertente. Questa è la definizione, diciamo, permettetemi il termine, che Maurizio riesce a dare alla parola di Serious Game. È chiaro che però, se io voglio andare sul mercato dei videogiochi, questa cosa non va più bene. Io devo comunque fare uno sforzo per poter mettere all'interno di questo prodotto che voglio fare degli elementi che mi permettono di essere e di sopravvivere sul mercato, perché se no naufragherei praticamente immediatamente. Ecco perché se io volessi prendere quella definizione e inserirla in un contesto grafico, io direi che, ok, indipendentemente dal supporto su cui realizziamo il nostro oggetto, l'obiettivo rimane sempre quello di far, di insegnare qualcosa, però noi dobbiamo avere due elementi, due, diciamo, elementi che ci aiutano ad arrivare a questo obiettivo. Il primo è, ok, dobbiamo... Morizio, scusa, scusa l'interruzione. Potresti andare un po' più piano, gentile. Ok. Grazie. Io, io purtroppo vi avevo avvertito che quando sono una macchinetta vi faccio... Va bene. Lo so, presi dalla foga, tendiamo tutti a dare più veloci, però, ok, grazie. Va bene. Scusami. No, no, figurati. Allora, ok, diciamo che dal... noi abbiamo il nostro oggetto da realizzare, abbiamo il nostro obiettivo da quest'altra parte, ok? Per affinché noi, il nostro obiettivo sia in qualche modo sostenibile sul mercato, dobbiamo comunque inserire degli elementi che sono fondamentali. Il primo è dobbiamo farlo diventare un gioco, quindi il concetto non importa da che supporte viene realizzato, lo dobbiamo far sparire, dobbiamo fare un videogioco, è chiaro, cioè nel senso dobbiamo realizzare quello, le cui parti fondamentali sono tre, la grafica, il gameplay e l'audio, ok? Dopo, nella slide successiva le ho un po' esplicitate meglio. Il secondo è non posso fare a meno di non mettere come importanza il target di riferimento, perché un gioco per un bambino di dieci anni non può essere un gioco che vale per un uomo di cinquant'anni. È chiaro che sono due cose che viaggiano su due livelli completamente diversi, per cui è importantissimo, è importantissimo avere come punto di riferimento quello che vogliamo fare. Aspetto la traduttrice, faccio il bravo. Ho cercato di esplicitare le parti che rappresentano un videogioco, perché è fondamentale, nel senso, nel piano produttivo di un videogioco, noi abbiamo bisogno di alcuni elementi. Naturalmente, la grafica, che rappresenta tutti gli aspetti visibili che è il videogioco, tutto quello che il giocatore vede, ok? Il gameplay, che rappresenta tutte le regole, cioè tutto quello che il giocatore deve fare per interagire con il videogioco stesso. per arrivare all'obiettivo. L'audio, l'audio è importantissimo, nel senso, anche se anche l'audio non è una cosa fondamentale, se uno fa un gioco senza audio, è chiaro che la prima impressione è che è fatto qualcosa a cui manca qualcosa. Quindi, anche se non è fondamentale, l'audio ci deve essere sempre. Michele mi dà ragione su questa, su questa, su questa affermazione. E terzo, e ultimo punto, il quarto punto, che non era nella slide precedente, sono i contenuti, perché noi comunque stiamo parlando di qualcosa per valorizzare i nostri beni culturali. Quindi, il contenuto non può essere un elemento più, di meno valore rispetto agli altri. Deve essere un elemento che ha lo stesso, identica importanza degli altri. Questo per noi è fondamentale. Tutti questi elementi sono quelli che influenzano, come ho detto prima, il target di riferimento del videogioco. Come ho detto prima, è un videogioco che si svolge a bambini da 8-11 anni, deve avere una grafica, una certa tipo di grafica, una certa tipo di gameplay e un certo tipo di contenuto realizzato in maniera adatto a quel target. Tutto questo coso, tutti questi elementi, si traducono semplicemente in quello che viene influenzato poi da quello che noi chiamiamo budget, che serve per realizzare il nostro prodotto. Chiaro che, se io devo fare un videogioco per un bambino di 10 anni, difficilmente forse farò una grafica 3D spinta, molto probabilmente farò una visual novel e il costo di una visual novel è molto inferiore rispetto ad una progettazione in 3D di un mondo grande. Ando avanti, perché poi io ho cercato di applicare questo che vi sto spiegando nella nostra vita reale. Ok? La prima cosa che io ho sempre detto è questa, nel senso che il quadro diventa più complicato perché il ciclo di vita di un videogioco non hanno, quando viene realizzato qualcosa difficilmente si tiene conto di alcuni di alcuni concetti. Il primo è, vabbè, chi finanzia lo sviluppo del videogioco? Io vi sto parlando d'azienda, nel senso che d'azienda io la prima cosa che mi domanda è questo, ok, lo finanziate voi, lo finanzia un bando, lo dobbiamo finanziare noi, lo dobbiamo cofinanziare noi, sono alcune domande che noi mettiamo sul tavolo. Il secondo, che non è di meno importanza ma secondo me è il punto fondamentale di dove arriveremo è come garantiamo la sostenibilità di questo progetto nel tempo. Google ha appena detto che fra qualche mese eliminerà tutte le app pubblicate sullo store che hanno, che sono state compilate con una libreria diciamo obsoleta. Questa cancellazione di queste app provocherà una cancellazione di tantissime applicazioni fatte da enti e da musei diciamo da da applicazioni che sono state realizzate grazie a dei bandi negli anni passati proprio perché non sono stati aggiornati nel tempo e molto probabilmente spariranno dal mercato. Ecco perché noi è una cosa Michele lo sa benissimo noi il primo punto fondamentale prima di partire in qualsiasi nostro prodotto è capire come questa cosa che noi faremo sarà sostenibile per almeno tre anni nel futuro. Attenzione vi farò vedere dopo quegli esempi che vi ho portato che la sostenibilità non vuol dire soltanto soldi ma può essere anche intesa come attività collaterale al videogioco che ti permettono in qualche modo di poter garantire lo sviluppo e l'aggiornamento del prodotto stesso per cui la parte di ideazione progettazione e protezione rientra nel piano di finanziamento del prodotto la parte di post lancio rientra nella sostenibilità e le due cose non possono essere separate devono essere per forza tenuti conto in fase progettuale per fortuna nei nuovi bandi che stanno uscendo come prerequisito stanno inserendo quello di cercare in qualche modo di rendere sostenibile quello che si sta facendo ma fino a qualche anno fa questo concetto era un po' diciamo ne tenevano poco conto ho cercato poi di prendere tutte queste nozioni e portarle e farvele diciamo illustrare in base alle esperienze che abbiamo avuto quest'anno attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale e abbiamo praticamente trovato quattro diciamo punti che sono quelli fondamentali intanto per noi valorizzare qualcosa che fa parte del patrimonio culturale ha un significato un po' diverso cioè io non posso valorizzare qualcosa che ha già un valore solo intrinseco io l'unica cosa che posso fare è prendere questa cosa e farla vedere farla conoscere il più possibile ad una platea più alta questa è è una cosa che sulla quale pongo molto l'attenzione spesso quando parliamo con enti che vogliono qualcosa da noi e troviamo dall'altra parte e questo è il secondo punto delle persone che non conoscono bene quello di cui si sta parlando ci immaginano come quelle persone che riescono a risolvere i loro problemi facciamo un videogioco al museo e da domani entrano diecimila persone a vedere il museo ci considerano un po' della soluzione di tanti altri problemi che hanno loro internamente e per cui a volte si fa tanta fatica a far capire quello che noi possiamo offrire rispetto a quello che ci chiedono loro l'altra parte riguarda quello che vi ho detto prima la parte economica del progetto seppure il museo o quello che è l'ente il raggruppamento di enti riesce a procurare i soldi per poter pensare a realizzare il progetto difficilmente riescono a a pensare a qualcosa che possa essere sostenibile loro non ci pensano quasi mai o comunque ci pensa magari solo chi è particolarmente interessato o comunque conosce un po' il settore gran parte delle persone con cui noi abbiamo avuto a che fare questo argomento lo conosceva poco e nulla e infine io dico sempre che il videogioco non è la soluzione di tutti i problemi di un museo ma deve far parte di un piano di comunicazione di quest'ente che sia un comune che sia un museo qualsiasi cosa deve comunque far parte di un piano di comunicazione di una rete sociale già costituita nel senso che è inutile pensare è impossibile pensare che domani il museo X che non ha la pagina su Facebook non ha la pagina su Instagram non viene praticamente riconosciuto da nessuno investa anche centomila euro per fare un videogioco e da domani lo conoscono tutti quanti ecco questa è utopia non esiste cioè prima bisogna pensare alle cose più semplici quindi farsi conoscere avere una presenza costruire una piccola rete sociale dopodiché l'aggiunta di un prodotto che può essere un videogioco dà la spinta ma non è la soluzione in sé è una cosa che dirò sempre ho cercato di raggruppare questi quattro punti anche qui riportando lo stesso grafico perché comunque dobbiamo tenere sempre ben presente che è una cosa a fare un'altra cosa poi in qualche modo è continuare poi a rendere lo sostenibile perché io dico sempre che a bravi a farli ci sono tantissime società che fanno dei lavori spettacolari ma poi tipo appena finiscono i soldi il progetto quante volte magari siete andati in un museo avete trovato i monitor spenti o grandi installazioni che sono che nessuno sa nemmeno più usare proprio perché nessuno ha pensato a magari a creare un piano di formativo di formazione del personale del museo per accendere quei computer e farle funzionare sono banalità però queste cose secondo me in fase progettuale devono essere cioè devono essere secondo me una sorta di vangelo io lo dico sempre perché costituisce poi la soddisfazione anche di chi le fa le cose perché tu puoi fare un lavoro bellissimo però poi lo vedi che non lo usa nessuno e ti rendi conto che hai buttato tempo su qualcosa che ok va bene ti hanno pagato però alla fine non ne soffrisce nessuno per prendere problemi che non sono nemmeno tuoi ma semplicemente di organizzazione dell'ente sto correndo troppo lo so mi bacchetteranno un'altra volta lo so lo sguardo è così lo so lo so ok questo però che cosa che cosa ci ha portato a fare ok io ho immaginato domani bussa la mia porta al museo X e mi dice Maurizio voglio fare un videogioco ok che cosa dobbiamo fare allora noi abbiamo realizzato negli anni un modello che è questo che vi sto facendo vedere sul quale noi cerchiamo di applicare tutto quello che noi dobbiamo fare ogni volta che partiamo in un progetto è molto semplice non l'ho esplicitato però vi ho messo i punti fondamentali quindi indipendentemente se è un progetto interno quindi lo finanziamo noi o viene da un progetto B2B quindi o da un ente pubblico o da un fondo o da un bando italiano o per quel che sia ok la prima cosa che noi chiediamo è ok mi dici chi sei mi dici che la tua presenza a livello sociale a livello anche locale chi ti segue mi dici quanta gente ti ha visitato nel caso di un museo negli ultimi anni perché è chiaro che se un museo viene visitato da 100 persone l'anno e viene da me mi dice vada io voglio il videogioco per visitare per entrare 10.000 persone è chiaro che c'è un target raggiungibile quindi la prima cosa che va fatto è la fotografia della situazione attuale di questo mente e lo faccio con tutti perché è fondamentale perché la definizione dell'obiettivo e del target di questa cosa che stiamo per fare può cambiare cambia quasi sicuramente in base a quella che esce dalla fotografia vi ripeto se io vengono da me e mi dicono ah ma noi vogliamo più persone che ci vengono a visitare straniere e poi vediamo che in città non arriva mai uno straniero cioè è difficile che le due cose collimino dobbiamo in ogni caso cercare di avere la fotografia attuale ok e successivamente ridefinire o definire con diciamo il soggetto il nuovo obiettivo dopodiché questo ci permette in base all'obiettivo ci permette ok facciamo un business plan ok perché comunque dobbiamo allocare delle risorse dobbiamo allocare dobbiamo vedere come spendere queste risorse ok e anche qui spesso la cosa viene vincolata anche dal budget a disposizione perché su un bando di 20.000 euro è chiaro che non posso non posso farti assassin kid della tua città queste cose devono essere chiare a chiunque si approcci in questo mondo poi in Italia sta nascendo sempre più una cattiva abitudine che vogliono tutto con poco e subito in pochi mesi cioè perché deriva dai bandi proprio con cui vengono fatti se voi prendete gli ultimi bandi che sono usciti che riguarda il mondo dei videogiochi ti chiedono ok ti assegni il bando a luglio ed agosto però me lo devi concludere entro il 31 dicembre ecco insomma cerchiamo di capire che non funziona proprio così lo sviluppo di un videogioco richiede tempo richiede a volte tanto se lo scenario ne ha bisogno e sicuramente se voi tra virgolette pagate poco non potete pretendere di avere il mondo in 3D immersivo che dura 15 ore di gameplay questa cosa quello che vi verrà dato è in qualche modo misurato sul budget che viene messo a disposizione cercando sempre però di centrare l'obiettivo che ci siamo dati lo so che possono sembrare dei concetti un pochino brutti da dire però purtroppo la verità è questa nel senso che una cosa è il mondo virtuale in cui siamo tutti felici e contenti un'altra cosa è il mondo del lavoro vero e proprio aziendalmente dobbiamo rispondere a dei concetti che sono costi e ricavi è chiaro che se da una parte uno pretende tutto subito e velocemente con poco da quest'altra parte ti darò quello che in qualche modo mi stai chiedendo però bisogna comunque tenere ben presente e bilanciare bene queste cose infine una volta che abbiamo stabilito il budget abbiamo stabilito il business plan abbiamo stabilito chi fa cosa quando lo fa entro quanto tempo lo fa si va nella produzione del progetto vero e proprio che ha un suo tempo di realizzazione e come ultimo punto è quello di mettere in campo tutte le azioni necessarie per rendere sostenibile il progetto per almeno tre anni Michele sa benissimo che un'applicazione sullo store deve essere aggiornata non una volta ogni tre anni ma almeno una volta ogni mese ok in qualche modo perché sennò il rank dell'applicazione cade 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 fino a sparire completamente dalla diciamo dal panorama delle applicazioni per cui tenete conto che aggiornare l'applicazione ha dei costi farlo per tre anni a volte il costo di ragionamento per tre anni supera il costo iniziale di realizzazione ok allora io vi ho portato tre casi studio nel quale sono tre situazioni completamente diverse tra di loro nel quale come dicevo prima vi farò vedere adesso ho messo anche dei numeri per capire per farvi capire quanto da videogiochi la cui attendibilità storica è intoccabile ok si possa sostenere sul mercato e rendere sostenibile il primo che forse quello che ci fa ci ha fatto un po' conoscere in Italia ok e questo è Mirasna è un videogioco ambientato sulla civiltà etrusca che ha che ha avuto un bellissimo diciamo vita progettuale nel senso che siamo riusciti a secondo me a costruire un piccolo miracolo ora ve lo faccio vi faccio un po' vedere perché sapete benissimo che un'azienda privata che sfrutta un'immagine di un bene culturale deve pagare ok deve pagare un fee al museo o comunque a chi detiene la proprietà intellettuale di quell'immagine noi grazie ad accordi fatti con sette poli museali allora erano poli museali ora sono direzione regionale musei otto musei archeologici nazionali e una cosa come settanta ottanta musei civici ok abbiamo avuto tutto questo materiale in cambio di visibilità e da contratto vi farò vedere dopo come il cinque per cento che è quello che guadagniamo da questo videogioco sul mercato viene reinvestito in attività culturali questi sono gli accordi che abbiamo fatto questo ci ha permesso di avere le immagini da poter utilizzare nel videogioco che ripeto il videogioco in sé può piacere o non può piacere non è questa non è questa la diciamo la tavola quello che deve quello che deve farvi lasciare che è un progetto che abbiamo interamente finanziato nuovi quindi nessuno ci ha dato un euro per fare questo videogioco ok è costato nel giro di otto mesi e di due aggiornamenti cinquantasei mila euro ok i ricavi dal 2018 sullo storo sono di novantatremila euro diretti e centomintimila euro diretti indiretti indiretti che vuol dire che qualcuno che ha visto il videogioco ci ha ci ha contattati perché ha visto che facevamo queste attività e da questa diciamo contatto è uscito fuori un progetto ok quel valore di quel progetto è stato messo a budget di Mirasma tipo un bando europeo che abbiamo vinto sul Mediterraneo ad esempio un progetto europeo un altro progetto europeo in cui siamo stati invitati a partecipare grazie a Mirasma tutto ciò che è derivato da questa diciamo realizzazione è stato messo come ricavo in diretto come vi dicevo prima qui trovate degli screenshot del nuovo aggiornamento che sta per uscire che è tutto in 3D il videogioco attualmente sullo store è in 2D ma noi continuiamo ad investirci quindi Michele sa benissimo che passare da un 2D a un 3D ha tantissimi costi però noi ci stiamo continuando a investire perché fin tanto che lo store ci garantisce un'entrata vuol dire che il gioco è sostenibile sul mercato possiamo andare avanti senza nessun tipo di problema ci ha permesso di farci conoscere dalle direzioni regionali di centro Italia da tutte le regioni di centro Italia e come dicevo prima il 5% di quello che noi guadagniamo da questo videogioco in accordo con i direttori dei vari musei noi lo reinvestiamo in attività commerciali in attività culturali diciamo a tema etrusco noi a fine anno mandiamo un'email con i report delle vendite fatte sul videogioco quindi diciamo ai direttori dei musei diteci come vogliamo gli vogliamo spendere sono vostri in totale autonomia questo però che cosa ci ha permesso questo vi faccio vedere soltanto le fonti che abbiamo utilizzato per fare questo videogioco tutte queste fonti sono state poi bagliate pagina per pagina dal direttore Valentino Nizzo che è il direttore del museo archeologico di Villa Giulia che diciamo per noi è il conoscitore del mondo etrusco più grande esistente in questo momento e abbiamo avuto il bollino diciamo dal museo dove dice che noi dentro questo videogioco tutti i nostri contenuti sono attendibili storicamente da questa dal videogioco nasce quello che prima ha nominato Michele Feste Etrusca Feste Etrusca è un festival itinerario archeologico che l'anno scorso abbiamo fatto a Villa Giulia e qui vedete alcune immagini e Maurizio scusa ti chiedo di rallentare un pochettino va bene grazie scusate ok Feste Etrusca come vi dicevo è un evento dal vivo come potete vedere dalle foto nel quale vengono organizzate degli incontri delle tavole rotonde delle presentazioni di libro dei laboratori didattici ci sono i rievocatori che fanno rivivere un po' quella che è la quella che è la la vita etrusca ok e l'anno scorso è stato fatto il 25 e il 26 settembre ed ha avuto un ottimo successo inaspettato 1612 visitatori post covid è stato veramente un grande successo quest'anno lo faremo in quattro regioni noi daremo le date credo fra un paio di settimane andremo a Perugia al Museo Arqueologico Nazionale faremo due date a Popolonia cioè la regione toscana ci ha chiesto di organizzare due giornate di festa etrusca a Popolonia andremo al Man a Napoli e questa è anche una bellissima sorpresa nel senso che riuscire ad arrivare in Campania parlando di etruschi di frontiera è un bellissimo un bellissimo risultato e poi concluderemo le due giornate a Villa Giulia anche quest'anno questo è quando parlo di sostenibilità vuol dire che siamo riusciti a creare oltre vabbè agli introiti diretti dallo store siamo riusciti a creare una rete che ci permette di poter organizzare questi eventi prendendo in concessione il museo quindi noi paghiamo per essere lì noi che siamo ospiti noi paghiamo per essere lì e di organizzare qualcosa che difficilmente si vede legato al mondo dei videogiochi Michele mi darà ragione cioè difficilmente che si trovano queste questa trasposizione dal videogioco ad un evento reale io mi definisco un po' pazzo in queste cose ma noi cerchiamo sempre di farle e di portarle a termine questo è il nostro primo esempio ok perfetto il secondo invece viene da un bando regionale si chiama The Umbrian Chronicles The Umbrian Chronicles come leggete è un videogioco per dispositivi mobili sviluppati all'interno di un progetto connessioni museali tra valli e monti bordi e città della regione Umbria per valorizzare il patrimonio culturale e ambientale diciamo di musei che si mettevano insieme tra di loro e suddivisi musei civici non archeologici nazionali in più comuni come vedete da incarico diretto di 23 mila euro abbiamo avuto un costo di idealizzazione di 15 mila euro in questo caso sono arrivati però 19.500 ricavi indiretti perché un altro comune che ha visto il videogioco che abbiamo sviluppato per Scoleto ha voluto la stessa cosa per loro è il comune di Rieti è uno degli ultimi videogiochi che abbiamo fatto che cosa dire di questo gioco noi abbiamo avuto la fortuna in questo caso e ve l'ho portato come esempio perché il comune ha creduto tantissimo nell'utilizzare il videogioco come strumento di valorizzazione e come strumento di promozione territoriale e quando trovi degli interlocutori svegli in questo caso il videogioco non può che non essere un successo deve andare per forza è un è un connubio fantastico abbiamo fatto dei PCTO con le scuole noi andiamo nelle scuole di Spoleto dei 5 comuni a farle giocare ora faremo anche un torneo su Dream Plan Chronicles e ve lo faccio vedere nella slide successiva Dare e Dream Plan Chronicles sono nate delle nuove opportunità nuove opportunità che sono prima di tutto un libro ne abbiamo fatto una pubblicazione il grafico che vedete all'inizio devo fare un passettino all'indietro ed essere anche un po' polemico Michele ve lo permetterà spesso noi veniamo giudicati dal numero di download che un'applicazione fa sullo store cioè tutto quello che noi facciamo può anche non servire a nulla la prima domanda che ti fanno è sì ma quante persone l'hanno scaricato è una delle classiche domande che ci viene fatta ecco è una delle classiche domande che io ogni volta rimbalzo sempre perché io ho sempre detto che i nostri prodotti devono essere valutati con una chiave diversa che cosa abbiamo fatto? abbiamo chiesto al comune di poter fare un sondaggio semplice sondaggio in tutte le scuole chiedendo ai ragazzi se conoscevano gli altri musei o gli altri diciamo i musei degli altri comuni una cosa molto molto semplice molto molto lineare e abbiamo somministrato una cosa come 250 questionari insomma non erano pochissimi e abbiamo raccolto i dati e li abbiamo messi da parte sei mesi dopo l'uscita del videogioco ok abbiamo fatto lo stesso sondaggio identico sondaggio uguale a tutti quanti i ragazzini che avevano risposto al prima ecco tutti quei ragazzi che hanno detto hanno risposto sì alla domanda se conoscevano un museo che prima non conoscevano non avevano nemmeno sentito parlare tutta quella forbici è tutto il risultato del progetto stesso è il valore con il quale siamo stati misurati il comune come elemento di misurazione è stato tutte le persone che all'inizio non conoscevano un museo dopo l'hanno conosciuto questo è stata questo per noi è stato molto fondamentale come vedete vi ho portato un po' di screenshot noi siamo andati nelle scuole facciamo giocare facciamo un po' divertire i ragazzi in collaborazione con le scuole abbiamo presentato il progetto al videogame lab l'anno scorso a Roma un'importante fiera diciamo mondo dei videogiochi abbiamo fatto presentare ai ragazzi che hanno fatto il PCTO con noi le attività che hanno fatto con grande soddisfazione è uscita una pubblicazione che è in vendita su Amazon cioè se volete sapere la storia di questo videogioco andate su Amazon e la trovate senza grandi problemi infine l'ultimo progetto che ho fatto partire sempre legato a questo mondo è la creazione di un personaggio virtuale mentre si parla di personaggi in 3D aumentare aumentate ecco io ho fatto l'esatto contrario ho preso il personaggio di un videogioco ho preso una ragazza che fa il cosplay e l'abbiamo vestita da quel personaggio ha un account Facebook ha un account Instagram e se gli mandate domande su quello che sta facendo a Spoleto negli altri videogiocchi vi risponderà c'è uno staff dietro di persone che interagisce su questo profilo questo perché perché domani porteremo questa persona a fare degli approfondimenti sul territorio gli faremo fare delle interviste ai direttori degli approfondimenti fotografici o video e in qualche modo diamo continuità a quello che abbiamo fatto ecco perché per noi è importantissimo è risalto a quattro pagine prima che è importantissimo dare continuità a questa cosa perché creare questa diciamo anche questa è un po' una pazzia una po' una come si può dire una forzatura però ci permette di poter dire a qualcuno ecco noi facciamo anche queste cose noi facciamo queste cose in modo diverso pensando anche a domani ad una continuità di progetto ok bene l'ultimo esempio proprio perché prima ve lo anticipo l'ho scelto apposta e lo porto sempre come esempio perché a volte non è vero che per fare bei lavori bisogna che ci sia un budget grande ok questo è un lavoro dal budget piccolissimo ok che ha risposto esattamente alle esigenze del comune che ce l'ha diciamo assegnato è una piccolissima area archeologica dove hanno rinvenuto in provincia e a fermo ok nelle marche dove ci hanno il comune di Monte Rinaldo dove ci hanno dove hanno riscoperto una piccola area sacra cioè un tempio normalissimo e hanno rinvenuto soltanto permettetemi il termine io le chiamo mattonelle sono quelle che le antifisse dei tempi hanno rinvenuto soltanto tre tipi di antifissa che cosa hanno fatto questi come vedete ci hanno dato 5.000 euro ci abbiamo messo 2.000 euro per realizzarlo quindi è un budget veramente alla portata di tutti penso ok ci hanno chiesto di realizzare un videogioco che è installato localmente in un monitor dentro il loro museo per ricostruire le facciate dei tempi attraverso queste mattonelle cioè tecnicamente è una banalità pazzesca cioè veramente semplice però sappiate che con una spesa veramente irrisoria è diventata l'attrazione turistica di tutti gli altri paesi cioè per andare a giocare a questo piccolo museo ora devi fare ti devi prenotare parlo delle scuole cosa che era inconcebibile fino a poco tempo fa per l'Ode che non conosceva nessuno però ora se tu vuoi andare a giocare a questo videogioco devi chiamare l'ufficio del comune e ti devi prenotare perché c'è la fila delle scuole che vanno ecco a volte per quello io dico che secondo me è importante cercare di fare prima quelli che producono le cose bisogna essere un po' il consulente di chi fa questa cosa bisogna saperla dare delle informazioni bisogna saperla aiutare a chi viene da te anche a cambiare a stravolgere completamente il proprio progetto perché a volte basta poco per centrare in pieno l'obiettivo è il fatto stesso che oggi qua davanti a dei partner greci lì a progetto si sta parlando di una piccola area archeologica sperza in un peso di quattrocento persone dà ancora continuità a quello che stiamo dicendo nel senso che forse lo conoscevate forse no non è un problema ora sapete che c'è per cui stiamo trasmettendo quello in qualche modo anche in diretto o diretto chiamatela come volete quello che era un po' la finalità l'obiettivo di questo piccolo sindaco che ha avuto la brillante idea di ok facciamo questa cosa nel nostro piccolo comune ho perso la voce sappiato comunque questo progetto è stato poi presentato a turisma quindi è stato anche presentato in delle fere diciamo di una certa rilevanza raccogliendo anche il favore di chi poi l'ha utilizzato fisicamente i ragazzi lì lasciano dei feedback positivi e Michele dice nel libro del museo è importantissimo confermo questa cosa perché lascia a volte non soltanto dei feedback ma anche dei suggerimenti che possono essere scappati in fase progettuale del tipo ah ma se la mattonella invece di mettere così l'avessi messa così sarebbe stato meglio ecco noi cogliamo anche queste piccole cose come suggerimenti basta io penso di aver finito ok io mi scuso se ho corso come un dannato ma purtroppo io e la mia voce sono 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 fatto così ecco io il mio obiettivo era quello di provare a a far ad immaginare che come se domani qualcuno venisse da me a chiedermi qualcosa ecco io farei esattamente quello che per l'appuntato non una cosa in più non una cosa in meno ecco grazie Maurizio scusa se ti ho interrotto un paio di volte così ma giusto diciamo per per l'incontro alle esigenze eh della nostra interprete d'accordo e se ci sono domande quindi mh sempre tramite chat vediamo vediamo un po' se non ne facciamo una discussione ecco io a me piace poi interagire sì ok insomma sembrerebbe Maria Lucia chiede il nome della blogger ma in realtà non è una blogger è una è una ragazza che fa cosplayer si chiama le avventure di Ponzia Vannozzi si chiama così ok trovate sia la pagina su Facebook che su Instagram che poi avete fatto tale cioè è uguale abbiamo lavorato molto per per fare questa cosa ora la porteremo anche a Feste Etrusca sarà ospite di un'ora a Feste Etrusca farà le interviste ai direttori è interessante beh ci piace perché in qualche modo Lega la metteremo in tutti i progetti che faremo ad esempio nel videogioco di Rieti c'è anche Ponzia Vannozzi indirettamente viene chiamata per essere aiutata a fare qualcosa questo ci permette di agganciare altri posti e altri comuni uno spende tantissimo a fare cose in 3D e poi uno se la ritrova no ma hai ragione ma ci sta anche perché questo dipende dalle finalità giustamente una persona che va a fare le interviste che sta in mezzo alla gente è azzeccatissima come idea anche imprenditoriale diciamo è molto è ottimo beh tu lo sai noi preferiamo molto mescolare le cose in realtà con le persone che fanno rievocazione noi fate benissimo bravi per noi è tutta divulgazione storica si è fatta bene si è fatta in un certo contesto si è fatta bene per cui è chiaro che per noi è un elemento fondamentale di riuscire a integrare il territorio ecco sì sì Lucia ci chiede non ci fai vedere qualche gioco qualche video insomma allora rispetto a rispetto a Michele che ha avuto una cosa come 50 video da far vedere io l'unica cosa che posso farvi vedere è il trailer del videogioco ok proprio perché noi diciamo che di Mirasna che è stato realizzato al patto archeologico di Baratti Popolonia ve lo faccio vedere condividendo lo schermo o quello qua ok anche qui rispetto ad esempio a quello che avete visto con Michele dove i trailer dei videogiochi o comunque i demo dei videogiochi fanno vedere i giochi stessi noi abbiamo preferito forzare un po' la mano ok a fare trailer con persone reali dentro i patti archeologici perché perché se vuoi giocare vai sullo store ti scarichi lo giochi e giochi non ti devo far vedere un'anteprima per noi è fondamentale questa chiave un po' anche provocatoria della della di quello che facciamo noi per fare questo video abbiamo preso in concessione il patto archeologico abbiamo chiamato gli evocatori del monte etrusco e qui rappresentano un po' tutte le scene del videogioco quindi l'agricoltura perché nel videogioco devi creare delle fattorie devi trasportare il cibo da una città all'altra la parte divinatoria che era importantissima nel mondo etrusco grazie a tutti grazie a tutti a parte del mercato degli artigiani che era importantissima grazie a tutti questa è una scena di caccia e non può mancare la parte militare di battaglia perché è un elemento fondamentale dei giochi grazie a tutti Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.